La nostra è una università giovane, dinamica, votata fin dall'inizio dalla eccellenza, una eccellenza non autoreferenziale ma documentata a livello nazionale e internazionale. In particolare la nostra facoltà che ha celebrato quest'anno il ventennale della sua nascita è stata fin dall'inizio nella visione del fondatore una facoltà che rispetto alle scienze psicologiche era aperta a diversi tipi di formazione, quindi dalle neuroscienze cliniche e non cliniche alla più tradizionale e conosciuta psicologia clinica. Abbiamo una tradizione consolidata di collaborazione con il Dipartimento di Neuroscienze Cliniche del San Raffaele Turro e attraverso questa la formazione di una generazione di psicologi è avvenuta appunto in stretta collaborazione con le scienze mediche, in particolare con la psichiatria. Quindi la nostra triennale in particolare è in formazione iniziale e deve quindi rappresentare tutte le discipline e tutti i settori in modo tale da fornire agli studenti che si introducono a questo tipo di scelta per la propria carriera professionale futura tutte le opzioni possibili secondo i campi della psicologia tradizionale e secondo anche le tecnologie più avanzate nell'ambito delle neuroscienze.